Cordoglio per l'uccisione di Abe è stata espressa in tutto il mondo. Gioan Battista Brunori. Indignazione e cordoglio per l'uccisione di un leader globale dotato di una visione che ha rimesso il Giappone al centro della scena mondiale. Campione dell'amicizia tra il popolo giapponese e quello americano lo ha definito il presidente Biden che ha ordinato bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici e militari. Shinzo Abe, che ha avviato nuove relazioni con Bruxelles, viene definito dalla presidente della commissione von der Leyen un paladino dell'ordine mondiale multilaterale. Un uomo che ha lavorato per preservare l'ordine mondiale, le fa eco il presidente francese Macron, si dice scioccato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ribadisce vicinanza agli amici giapponesi. Un'anime il cordoglio anche in Italia. Una tragedia che suscita lo sdegno di ogni democrazia, afferma la presidente del senato Casellati. Sgomento esprime il presidente della Camera FICO per un omicidio che è anche un brutale attacco ai valori democratici. L'Italia è sconvolta, afferma il premier Mario Draghi. Abe è stato un grande protagonista della vita politica internazionale grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. Dolore e commozione dal leader della Lega Salvini al segretario Dem Enrico Letta, dalla leader di Forza Italia Berlusconi al presidente dei Cinque Stelle Conte. La famiglia dei conservatori europei, ha affermato Meloni, è vicina al popolo giapponese in questo drammatico momento.